Vi auguro una buona giornata. Il messaggio di oggi è energia positiva. Circondati di persone situazioni positive ed evita la negatività. Il tuo lavoro di manifestazione procede alla grande. Questa carta rappresenta un incoraggiamento a portare il processo a un livello ancora più alto mettendoti a dieta di negatività. Ciò significa evitare il più possibile le influenze negative. Sottraiti alle discussioni negative con gli altri e con te stesso. Spegni la televisione e la radio quando presentano tematiche negative e tieniti alla larga da film violenti. Non leggere titoli pessimisti e stai a distanza dai giornali di gossip. Questa dieta dalla negatività ti libererà dei blocchi nascosti che potrebbero rallentare la manifestazione dei tuoi sogni o impedire del tutto la loro realizzazione. Un'altra cosa che puoi fare è applicare ai tuoi spazi il Feng Shui, antica arte cinese per l'arredamento. In questo modo innalzerai il livello di energia positiva in tutti gli ambienti che ti circondano. Ti viene inoltre chiesto di donare o vendere gli oggetti che creano disordine nella tua casa. Così facendo favorirai l'entrata di nuova energia creando un ambiente che stimola la creatività e porta salute e abbondanza. Questo è il messaggio della buona giornata.